allora fin qui ci siamo vediamo vediamo se non c'è la limitazione per far entrare alicia le stelle sono capito questo è di prescia spazio di prescia ma non sappiamo ancora se c'è una limitazione o no che succede eccoci ciao tesoro ma cazzo complimenti ma che meraviglia facciamo ciao tesoro da quanti giorni che non ci vediamo che c'è questo è il di preso facciamo dire questo è il di preso no sono contento che riusciamo ancora a fare le dirette perché dopo quello che era successo perché a quanto pare ti avevano bannato tutto però invece le dirette le riesci a fare quindi ho perso il telefono cosa hai combinato in questi giorni nei fatti di tutti i colori come sempre il tacchino combina guai ma guarda stavo pensando mentre prima di collegarci che tutto sommato non non ha neanche senso stare lì a soffermarsi perché sai che io non do più nessun valore a niente ok come niente cioè mi spiego cazzo sono in preda al pessimismo cosmico leopardiano ma no tesoro dai ma comunque devo dire guarda che carino sei così scogliattoloso stasera sei scogliattoloso orsettoso è la situazione perché noi mettiamo qui però quanta gente che noi mettiamo a nudo praticamente tutto ma in realtà in realtà non c'è più pudore per un cazzo no no stasera è particolarmente puccioso lui è molto dolce è molto coccoloso allora siccome tutti i paesi sanno di questa è la trasmissione di bellezza e di intellettualità chiediamo soccorso a un medico che non c'è più ma che è stato un grande cantante che canta con Celentano ho visto un re ok quindi c'è parola del greco dove sei nato tu? adesso? lì vicino lì vicino ecco vicino a lei vicino a lei grazie ragazzi grazie per i complimenti grazie per i complimenti cazzo sono troppo vecchio sono troppo vecchio figa queste canzoni e sono troppo vecchio che cazzo succede? cosa mi sta facendo tiktok? cosa? no che cazzo c'è adesso? mi sta facendo dei segnali basta che non ti bando lasciatevi stare Dio Cane Dio Porco Dio o no almeno adesso merda giusto o no? canzone no veramente dai lascerò a fare in culo tutto è vero o no? sì sì beh ma vogliamo parlare di quello che hai combinato stasera tesoro però dopo questa canzone tesoro va bene vediamo una canzone intelligente che c'è molto logico anche ma bella cavregna e sono non la canzone in intelligente che c'è molto sd história che c'è molto che c'è molto canzone motherf expected la bella e la bestia sono io la bestia bestia dentro belva più di altro allora questa canzone non l'ho messa a caso perché che cosa cazzo c'entra il passato quello che uno fa io sono contraria a rinvangare il passato quelle cose lì io voglio dire qualcosa di intelligente che sia un filo logico ok c'è quando quando l'esempio che ci dà il mondo è quello attuale ma cazzo ma nessuno ognuno può fare quel cazzo che vuole cioè che cazzo di esempio ti dato gli altri un cazzo no no infatti no sono d'accordo con te tesoro quindi io perché mi devo autodenunciare delle mie cose cioè ma cosa stiamo dicendo è vero o no? no no è verissimo tesoro è verissimo per esempio adesso il ragazzo di prima mi ha scritto io sono un pervertito quanto lei questo è molto intelligente è vero no ma infatti mi è piaciuto molto quel ragazzo insomma di prima cioè molto intelligente lui alzati in piedi muoviti per almeno un minuto comunque se li hai tagliati o no scrive qualcuno vedete che c'è qualcuno che ha visto che cosa hai combinato prima e c'ero io sul telefono che gli dicevo io voto per l'autocastrazione anche se tutti sconvolti tutti che non vuole invece io voto per l'autocastrazione e il camprone se ne arrivassi però c'è devo dire una cosa che ma poi il ragazzo ha detto una cosa molto intelligente quando ha detto un testicolo a vicenda ha già ha capito come funziona no ma lui era molto e comunque sia sì 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 si e sono quanti siete dalla tua parte 553 da te e 729 stanno crescendo perché è l'effetto dei tuoi è l'effetto bene che non ci hanno bannati questo è importante bene 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 ma Muniz ragazzi è morto basta chiedermelo è morto secondo quello l'hanno trovato ma non è vero no 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 è vero è vero che cazzo non è il figlio di Muniz vabbè ma non parliamo di di Muniz che chi se ne frega di Muniz che rovina la magia al momento te lo sai cos'è questo è un cioccolatino un cioccolatino sì ma che tipo al cocco no guarda la foto che c'è sopra l'immagine sì è un musicista ok tipo sarà Mozart non lo so non è Mozart esatto esatto quindi già lo stanno dicendo sono le non ho capito sono le le tue palle cioè si cavano appunto come si chiama questo cioccolatino eh non lo so come si chiama come si chiama Mozart boh come si chiama questo cioccolatino palle di Mozart veramente esatto veramente si chiama palle di Mozart ma veramente solo a me è venuta un'immagine in mente però non sono molto rotonde ma comunque eh palle non la sapevo questa raga non la sapevo io sto pensando a Mozart il regista cominciamo in grande modo sì lo trovi in Austria ah quindi si vede che dalle tue parti è un dolce dalle tue parti le palle di Mozart è buono sono buone almeno sì ma io non ho non ho ancora pubblicato il video dedicato a te sui rettiliani oddio quello delle uova esatto dove io mangio le uova perché per noi rettiliani non esiste sapore io potrei mangiare un topo ok ok cioè invece invece pensavo una cosa no volevo dire una cosa anche io mi baggo stasera no ma sai perché io mi baggo io mi baggo per colpa dei social perché non so io se potessi parlare come cazzo porco dio voglio parlerei come una radio eh ti devi baggare sì eh lo so purtroppo non si può dire un cazzo cioè delle cose che mi piacciono non posso dire un cazzo esatto però vabbè dell'autocastrazione possiamo forse parlare non lo so secondo voi raga in chat secondo voi dovrebbe esserci un'autocastrazione mi dicono mi dicono mi dicono mi dicono quello che ha donato prima era Steven Basilari della discoteca number one non leggi mai grazie Steven Basilari mi dicono che è un personaggio molto molto grazie Steven Basilari del number one e un attimo vorrei proprio vederlo perché tutti ve lo dicono andai anche a fare una Steven del number one vediamo Steven Basilari mangiando grazie Steven Basilari non c'è caso da fare sono sempre più richiedista ringraziamo Steven sono sempre più poi ti devo dire una cosa alla nostra cosa prego 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 per me è l'anfe che fa sti effetti comunque prego prego no no dicevo dopo ti devo dire una cosa per quanto riguarda le discoteche così cosa si metti dentro quella termos no è acqua tesoro qui ci sono anche in chat delle richieste di castrazione cioè dei pretendenti alla castrazione di castrazione se il mondo ti confonde non lo capisci più bravissimo cazzo se nulla è di soddisfatti a noi sempre più porco Dio bravissimo scienziati e ingegneri hanno inventato già una generazione di papoli e lavori certo ti portavo vedai ti piacerà oddio ma che canzone è questa è come un elettino una non si muove una carta chi la corrette si accende e va dirà oh 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 va a chiusare un po' oh 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 io ti amo io ti amo io ti voglio io ti voglio oh 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 si intrasse la polizia, entro subito ci penserebbero loro a farci corridere vabbè arrivo subito tesoro va bene, va bene ah però mi lasci sola con la canzone ah eccolo lì lui sbuca ogni tanto così oh 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 guardatelo ragamo è un giullare di corte bellissima o no come canzone sì 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 no però cioè no sei fantastico tesoro ma dove lo trovo un altro così che balla così che fa queste cose da nessuna parte cioè non esiste esatto è è verissimo è verissimo comunque se entrasse la pula ci penserebbero loro a farci sorridere a farmi no quindi ehm di premessina denaro uno così non lo trovi no esatto non lo trovo uno così è impossibile lui è proprio fascioca ma ragazzi infatti lo sanno da casa che che comunque c'è infatti è unico ma infatti è unico ragazzi è unico è unico è unico ma neanche lui una come te vabbè questo è ovvio stasera fa anche il il neanche se giri tutto il paese il pianeta lo trovi no no infatti quindi si 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 andrew solo con me diventi un peluche hai sentito cosa hanno detto che solo con me diventi un peluche ma lui è un pelusciotto guardatelo la vedo proviamo tutto da strizzare anche le palle lui è inimitabile e unico come del resto noi dovevamo conosci nel 1980 sì stasera serata nel 1980 il vostro è l'amore del secolo no vabbè però veramente il tiktok è bestiale cioè siamo in Shadowbound ah ecco perché qua siamo in 188 siamo in Shadowbound si veniva quello che facevo lì prima? si è visto qualcosa? no non si è visto niente non so perché no non si è visto niente no c'è una domanda totale totale ci fatti scendere di colpo come al solito comunque ci chiedono secondo voi la perversione è una forma d'arte? se la risposta è per avere soldi dico di sì se la risposta è sincera dico chi cazzo se ne frega l'importante è dicono tutto è arte non è proprio così se l'uccello si costruisce il nido o il castoro che si costruisce la liga non è che non è che fa un'opera d'arte fa un'opera di esperienza affinché ci sia arte occorre che ci sia un intruso nell'esperienza cioè l'oggetto estetico quindi se io ti do un calcio nei coglioni è arte è sicuramente arte quel video quella foto iniziale anzi quel video che mondo di merda che mondo di merda che mondo di merda che mondo di merda ma cosa aspetta il russo a sganciare cosa cazzo aspetta il russo aveva promesso che sganciava l'atomica di Ocane no dicono il livido che gli crei è arte beh quello sì con il calcio e se lo devo chiudere per forza ok tanto io domani devo alzarmi alle nove quindi perché Maria mi dice nove ho fatto così ci banano effettivamente può essere allora chiudo chiudiamo dai tesoro chiudiamo tanto siamo in shadow ban sì sì poi mettiamo così ci banano comunque niente ci banano perché sono degli ignoranti se ci banano ma io poi chiudo poi io mi domando ma Dio Cane Dio Porco Dio Porco Dio cioè siamo in una trasmissione dove parliamo di sentimenti di letteratura di arte di amore eccetera e invece noi si adobà eh Porco Dio cioè sono con una influencer direi ma ma che cazzo succede dai bannatemi bannatemi Dio Porco bannatemi Dio Cane bannateci bannatemi Dio Porco cazzo me ne frega ah no stanno dicendo in chat che oggi lo stanno facendo a tutti stanno shadow bannando tutti quindi forse ma non mi ne frega un cazzo a me ci facciamo bannare entrambi contemporaneamente come disprezzo mi preferirei di no tesoro però possiamo bestemmiare insieme se vuoi 3 2 1 Dio Porco 3 2 1 Dio Cane Dio Porco aspetta rifaccia diciamo prima Dio Porco poi Dio Cane ok vai 3 2 1 Dio Porco 3 2 1 Dio Cane 3 2 1 Porca Madonna Madonna prima tesoro io direi chiudiamo perché se ci vanno nella live non la possiamo salvare con questa cosa bellissima ciao tesoro ciao ragazzi dicono che non siamo non siamo normali va bene è vero certo siamo superiori grazie grazie tesoro un bacio a tutti ciao 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 Andrea chiudi ce la fai 3 2 1 clic clic dai clic ciao 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 ciao